Ricapitolando il nostro momento su di tutti, è chiaro che si deve assolutamente cercare di posizionarci nella mentalità di viaggiare soprattutto per nave, quindi viaggiamo per nave, viaggiamo per, cerchiamo di viaggiare possibilmente per nave o comunque su questo tipo di modello, quindi vediamo prima possibile di operare questo lavoro di rotazione, quindi la rotazione in queste amache è l'elemento vitale, vitale che si sta generando, la rotazione, quindi l'obelisco è questo, l'obelisco che ruota, che fa ruotare la persona, le persone, tutte queste persone che ruotano intorno all'obelisco, a volte da queste amache e che creano questo percorso evolutivo, quindi dall'equatore salgono verso i meridiani più alti fino a scendere, fino a scendere diciamo verso i poli, a scendere proprio a scendere, quindi l'obiettivo e quindi farli portare verso i poli, quindi verso la fissità, quindi meno rotazione possibile, meno movimento possibile, questo è il nostro lavoro, è quello di aiutare le persone a fare questo lavoro di ascensione, quindi il lavoro di ascensione in pratica, per avere maggiore fissità, quindi minor movimento possibile e maggiore stabilità, questo è l'obiettivo, è questo qua, ecco, questa è anche la conclusione di questo video con la campana che rintocca dando questa informazione.